Sono Alberto Poggio del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. Qui a Cremona parliamo di bioenergia, una delle principali fonti rinnovabili, quella che è cresciuta in modo significativo nel nostro paese. Parliamo spesso di bioenergia per produrre energia elettrica, ma dobbiamo cominciare a parlarne anche in termini di produzione di energia termica. Qui racconteremo delle iniziative di formazione legate all'ambito della bioenergia, ma anche nel mio intervento cercherò di dare qualche idea di quali sono le strategie e le possibilità di sviluppo di questo settore, parlando in specifico di quali nuovi spazi possono essere per le rinnovabili e in particolare per la bioenergia nel prossimo futuro. Abbiamo sempre più bisogno di figure professionali in grado di acquistare correttamente impianti. Purtroppo nel nostro paese siamo utilizzatori più che costrutturalizzatori di tecnologie. Abbiamo bisogno di figure in grado di proporre soluzioni tecniche integrate e di figure professionali in grado di integrare le conoscenze ingegneristiche tecniche con quelle di valutazione di impatto ambientale e di analisi economica. Molto importante è l'integrazione e la sinergia tra queste competenze. Poi speriamo attraverso l'attività di ricerca di poter costruire anche iniziative di realizzazione di nuove tecnologie e soluzioni in modo da vendere oltre che comprare come paese.